eccoci qui cari amici di viene a vivere all'estero benvenuti in un nuovo video in cui questa sera vi parlerò della arma invisibile che avete quando andate a cercare lavoro tutti ovviamente si preoccupano della parte visibile no dice come come sarò preparato sul curriculum come sarò preparato con i vestiti come sarò preparato con tutto però c'è un fattore che viene snobbato continuamente ed è il livello di tranquillità e livello di rilassamento e livello di energia serena che ci portiamo dietro quindi questa in un'unità al livello di arrivare lì possibilmente riposati ma non semplicemente perché il giorno prima sono riuscito a riposare a dormire bene ma perché proprio sto cercando di metterla come priorità nella mia vita per arrivare fresco i colloqui e quindi arrivare con quella così con una vibrazione che sia che metta tutti a proprio agio che non sia una di una vibrazione disperata che non sia una vibrazione di bisogno perché purtroppo chiunque va con un senso di bisogno a cercare le cose c'è un detto che si dice che si dice grid against need quindi la grid cioè la la smania di volere di più da parte magari del datore di lavoro contro la il need la necessità proprio del lavoro del di chi sta cercando lavoro fa sì che la bilancia tenda sempre dalla parte di chi è grid e non si trova nella parte di avere bisogno quindi cercate di non trovarvi nella parte di need cercate di andare tranquilli e psicologicamente sapere che se non va questa se non va in irlanda se non va ci sono sempre altri paesi non dovete arrivare con la mentalità di dire a no questa è l'ultima spiaggia e se non va questa poi davvero non so cosa fare toglietevelo dalla testa e arrivate sempre riposati sapendo che comunque vada voi sarete parati quindi non mettetevi nella situazione di dover essere lì a cercare il lavoro magari vi dice a mi do mi do un mese e mezzo per trovarlo e magari siete nell'ultima settimana in cui state per fare le valigie avete un colloquio e diciamo questo lo devo fa non che non traspaia questa questa vibrazione quindi tra le cose da coltivare no oltre alle cose classiche che dico spesso quindi abbiamo detto un curriculum vi dicendo c'è da coltivare questo senso di rilassamento questo senso di pacatezza che mi permette di rispondere anche in maniera più oculata alle domande se dovessi fare un pochino un paragono una metafora mi viene in mente avete presente che alle giostre ai tempi non so se c'è ancora così ma i tempi legge sanitaria c'era quell'affare che si chiama il pungible no quindi c'era veniva fuori quella quel sacco parco pallone insomma e bisognava dare un pugno bello forte per riuscire a fare tanti punti lì non era questione di continuare a provare riprovare a caso era questione magari di dare un pugno secco fatto bene con tutta la forza che addosso e da lì se la forza è sufficiente mi permette di vincere contro contro ai miei amici quindi è questione di tante volte di sì insistere sul lungo periodo però anche di arrivare con molta energia a fare una certa cosa e quindi sicuramente se si arriva con energia alta riposate colloqui si riesce a a dominare di più la scena senza subirla perché inevitabilmente me lo ricordo sulla mia pelle le volte che io arrivavo stanco come candidato o anche come recruiter e ti trovi che non hai controllo tanto della della scena e quindi si è un po più in in balia degli eventi quindi questa è una cosa che va bene sempre e comunque arrivare freschi io diciamo è una cosa che ho scoperto o valorizzato recentemente perché ho fatto tutta la mia vita sempre a cercare di alzarmi all'ultimo minuto a modo tale da dormire più possibile andare a letto più tardi possibile e poi ho deciso una volta di fare la prova perché a quanto pare tanti dicevano che era meglio ho cominciato andare a dormire prima alzarmi prima e è la giornata prende un altro ritmo un ritmo molto più controllato che mi permette di sentirmi più fresco se questo può può aiutare per coltivare quel tipo di freschezza che ci permette di non andare noi a rincorrere così tutte le occasioni ma riuscire a discernere in maniera più centrata andare un pochino colpo più sicuro su quello che ci interessa davvero e altra cosa da ricordare se andiamo a fare quello che ci interessa davvero come colloqui io naturalmente parlo di un periodo ideale questo periodo chiaramente a tutte tutte le sue eccezioni quindi il lavoro e lavoro quello che si trova si trova come come primi come primi inizi però se si va su quello che ci interessa il nostro colloquio avrà una grande forza chi è dall'altra parte del tavolo si accorgerà che noi siamo siamo belli carichi e faremo bene nel ruolo no mentre invece se uno va a fare un colloquio per una cosa mi ricordano era andato a fare un colloquio come operaio di linea di produzione della fabbrica di biscotti a glasgow e sì però sì anche anche le domande che ti fanno non ti permettono di dare tutto te stesso quindi quindi è diverso quindi paradossalmente più facile fare qualcosa di più appetitoso di più vocazionale perché facciamo faremo meglio il colloquio rispetto a un lavoro più base più semplice che però ha più competizione noi non riusciamo a dare il massimo nelle nostre risposte bene ragazzi questa è la piccola chicca di questo video in cui vi invito davvero a presentarvi riposati sia al colloquio ma sia anche nella ricerca e quindi riuscire a discernere bene quello che sta succedendo attorno a voi bene ragazzi a presto ci vediamo nei prossimi video ciao